La centrale dei rischi, la banca dati, che contiene le informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario, non è una semplice blacklist di cattivi pagatori, ma serve a garantire un sistema bancario efficiente e sicuro e consente di erogare più facilmente e a condizioni migliori finanziamenti ai clienti che hanno una buona storia creditizia. Se n'è parlato nel corso di un incontro organizzato dalla Camera di Commercio e dalla filiale catanzarese di Banca d'Italia, con i rappresentanti del mondo economico e del sistema del credito. La centrale dei rischi per molti operatori è diventata una sorta di problema atavico, per altri invece è quasi una possibilità, perché dà alle imprese ma anche ai istituti finanziari la possibilità di poter accedere a un servizio di dati che possono meglio poter insieme programmare quelle che sono le progettualità delle aziende e delle istituzioni stesse. Riteniamo che sia importante lavorare sulla crescita anche della cultura finanziaria, della cultura finanziaria anche delle imprese, questo come uno strumento da parte delle imprese per meglio conoscere le proprie esigenze e soprattutto anche meglio informarsi e avere dei rapporti con la banca più equilibrati, che sia più informato anche su quelle che sono le proprie esigenze e quindi rapportarsi al meglio con il sistema bancario, che rappresenta un canale di finanziamento fondamentale per le imprese. Il nostro biglietto da visita è evidente che è importante e la centrale dei rischi sotto il profilo delle valutazioni da parte poi degli intermediari finanziari per concedere credito o per rinnovare quelle che sono le linee di credito e quindi è importante che le imprese abbiano consapevolezza di questo elemento, lo sappiano utilizzare, sappiano come migliorare la propria banca di dati.